Apriamo la pagina sportiva parlando di box al Palasport di Riva del Garda. Domani non c'è in palio solo la corona silver WBC dei massimi leggeri, ma un'intera carriera. Silvio Branco e Giacobbe Fragomeni salgono sul quadrato con un unico obiettivo, dimostrare al mondo intero chi merita la chance di incrociare i guantoni con il detentore della corona regina della WBC. I due monumenti della categoria Cruiser il 17 marzo scorso sovrapposero le loro strade, ma la contesa terminò con un contestato verdetto di pari. Domani quindi la chance di riscatto per il Barbaro, dato da tutti come il vincitore morale di quella serata. Il match sarà visibile su Sport Italia 2 in diretta a partire dalle 21. Si alza domani alle 15 il sipario sul derby dei calcio a 5 locale, di fronte al palazzetto dello sport atletico ESD Civitavecchia per la 14esima giornata della Serie C1. Erano due stagioni che le due squadre non si incontravano sul campo, l'ultimo incontro risale infatti a due stagioni fa quando entrambe militavano nella Serie C2. Ad accrescere ancora di più il pathos e l'emozione per la gara, c'è sicuramente la posizione in classifica delle due squadre, visto che entrambi lottano per la salvezza e i tre punti che arriverebbero da una vittoria darebbero respiro e carica alla squadra vincitrice. La gara si svolgerà sul campo dell'ESD Civitavecchia, che vede come superficie di gioco il parquet, elemento che favorisce i padroni di casa, tenuto conto che la squadra ospite è abituata al terreno in arpa sintetica. Assenti tangini e fattori per i gialloblu, cerrotta, sannino e gabbelli per i nerazzurri. Turno intenso, quello di domani, per il basket locale. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio realizzato da Gianmarco Morcia. Seconda trasferta consecutiva per la Stemar 90, cestistica prima della lunga sosta natalizia. Archiviato senza rimpianti lo sfortunato big match della scorsa settimana a Sora, i rossoneri sono attesi domani pomeriggio a Roma, ospiti della bestia nera Vignapia. Nelle ultime stagioni, infatti, il quintetto capitolino è sempre riuscito a prevalere tra le mura amiche e attende la partita di domani per rilanciarsi in un campionato che finora non gli ha dato le soddisfazioni attese. Coach Tedeschi, dal canto suo, in questa settimana ha cercato soprattutto di ammortizzare gli effetti della sconfitta di Sora, che ha lasciato tanto amore in bocca ai suoi ragazzi, ma ha anche la consapevolezza di potersi giocare le partite contro tutti, anche contro quelli che nel girone vengono definiti marziani. In Serie D, invece, il Pirgi ospiterà il Montesacro. Gli ospiti cercheranno sicuramente di prendere anche lo scalpo degli spartani, ma la banda Rinaldi, con i rientranti, i pau e soprattutto arciprete, venderanno cara la pelle. Il fortino Carducci sarà quindi una bolgia. Il Pirgi deve infatti vincere per poter poi aspettare risultati del big match tra Polaris e Maccarese e della trasferta del Boville a Morena. Per quanto riguarda la Valentino Auto, domani sera alle 18.30, sul parchè di Via delle Colonie, le Valchiri di Daniele Precetti se la vedranno contro il Maddaloni, formazioni che viaggia al penultimo posto con solo i quattro punti nel carniere. Abbiamo la possibilità di trovare una migliore posizione in classifica, commenta Coach Precetti. Per questo cercheremo di fare nostra la partita contro il Maddaloni. Le ragazze stanno attraversando un'ottima condizione psicofisica e quindi sono certo che faranno di tutto per riuscire dal campo vincitrici. Dopo il servizio sugli incontri di basket, andiamo a vedere il servizio sugli incontri di pallavolo. Sfida da vincere a tutti i costi per la pallavolo Civitavecchia. Domani, alle 18.30, al Palazzetto dello Sport, i locali affronteranno infatti l'Isola Sacra per la non aggiornata del campione di B2. L'impegno sarà il primo dei due match consecutivi casalinghi che i Civitavecchiesi devono vincere obbligatoriamente per togliersi dalla penultima posizione di classifica. Sempre in casa ASP, ma in Serie D maschile, impegno esterno invece per il team allenato da Fabio Cristini che alle 20.30 sarà di scena a Roma per sfidare il Forte Nobel. Anche qui, come per i colleghi maggiori, serve una vittoria per migliorare le proprie chance a salvezza. Passando in campo femminile invece, impegno esterno per la Comal Privilege che in Serie B2 sarà impegnata nel teso match contro il Divino Amore. Entrambi i team sono appagliati a quota 9 in classifica e quindi il match assume i contorni di uno scontro diretto. Le ragazze di Tropiano sono ben allenate per questa sfida che vogliono vincere per staccarsi dalla zona retrocessione. Chiude la C femminile della Tirreno Power che si richierà a Formello con le pesanti essenze della schiacciatrice Tangini e dell'opposto Correra. Le ragazze avevano iniziato male il campionato con 6 K.O. consecutivi, ma negli ultimi due turni avevano vinto. Per il team De Gennaro, una vittoria, nonostante le assenze, toglierebbe momentaneamente le locali dalla lotta per non retrocedere. Ancora in corso i mondiali di nuoto di Istanbul per Damiano Lestingi. L'atleta Civitavecchiese, dopo essere arrivato in semifinale nei Centodorso, si è invece fermato alle prime batterie nei 50, a gara veloce, non di certo la sua specialità. Con il tempo di 24 secondi e 25 decimi, Lestingi è arrivato ventesimo e quindi non si è qualificato alla semifinale. Bene, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il Tg Alto Lazio. L'appuntamento naturalmente per domani. Buona serata.